come stai? non so Ricci anche altre cose stai arrivato a seconda grazie si allora come è stata? brava? bravissima davvero ma quel bravo cd non lo scaricavano magari si non mi scarica vero o no? no 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 assolutamente no scusa che c'è? Ah no, ho trovato la serie di due periodi, però era quella che prima stavamo dire la cosa. No, vabbè, ma siccome non sapevo quello che fare, volevo fare... io non mangio anche le risorse. Cioè, volevo fare i primordi. I primordi. Quelli che mandava a Susy, tipo, i primordi, i primordi. Scusa, non lo sento, perché ero un po'... Senti, secondo me, tu per loro potresti guardare di tutto. Pure la lambada, cioè, non ti fai così cosa. Non l'ho mai imparata, la lambada. Se vuoi ti consegno io, vuoi che te la segni? No, ma non, perché proprio... Non so, mi hanno dato la sedia, ma mi hanno detto, senti, vai su con la sedia e fai qualcosa. Improvvisa, che siamo in artista. Vuoi fare qualcosa? No. Sposami. Sì, ti prendi. No, 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 no. Faccialo in privato. Ok, va bene. No, allora, questo devo fare qualcosa. Sì. Sposami, attività, giustamente. Ti condivido in pieno con questa ragazza. Io assolutamente condivido, però, no. Invece io voglio... Ti posso far fare qualcosa? Sì, sì. Ciao Pasqualino. Ciao Pasqualino! Ciao Pasqualino! Senti, allora visto che mi hai portato questo set, io ti propongo questa cosa. Ti propongo una sfida. Vai, ci sto. Chiamiamole carte, carte, carte. Rodolfo Adrace. Cisto. Alla fine non c'è la scuola. Non mi puoi chiamare quella con la presa. Quindi cosa c'è? Io faccio il limone. La serie. Eh? No. Stavolta si fa qualcosa di nuovo. È diverso. Vabbè, già si faccia un po' di soli. Per Martinsicuro. Francesco, per un favore. Per Martinsicuro che dalla vita mi encanta. Ho sfidato. Forse, anzi, sicuramente mi vorrei venire a ballare. Oggi a me, ma perché non mi facciamo fare una cosa? Allora, visto che io non ti ho sfidato perché non ho avuto molto. No, no. Però, tu al serale hai cantato. Sì, alla finale. Al finale hai cantato. No, no. Io vedo una bella sera. Vedo un bel pubblico. Vedo un bel cielo. No, è l'importante. Quindi voglio cercare di cantare. Io non vedo tanti problemi. No, è l'importante. 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 Certo, la sfida è solo se tu balli. Visto che dalla finale non hai ballato. Ciao, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Allora, io lo farei se sapessi che qui c'è un pubblico di soli maggiorenni, ma dato che ci sono minorenni e non vorrei mai provocare danni alla crescita di queste povere creature. E mi direi che questo è Francesco. Mi direi che di come usare la camina della bulezza davanti al mio corpo. Negli occhi o di te? C'è certe cose. Perché ne so quando ci manca tempo. Ci manca. Ma allora no, a parte scherzo. Ma io canto. Ma io facciamo così. Io mi metto la e ti ascolto. Mi ascolto. E l'ascoltiamo. E allora facciamo una bella presentazione. Che ne so del ballo. Ma non fa vedere. Ma non è solo. Ma che ballo e non canta. Allora. 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 Stasera per una nucia cura. Solo per voi. Sicuro, sicuro. E siamo sicuri. Per voi Francesco canta ragazza. C'era una volta una gamba. E una macchina che era sul musico. E una vecchia a subbi-conta vicino al mare. Con un'ammirazione a un passo d'accello Se la pietra rassuonò, la gara faceva di un'altra E la schiena scendeva a vicina vicina Con il mio sorridero se ne tornava su Ora ancora un amico più in là Tutte cambiamo Non amico più in là Ho una tazza bellissima Bellissima come vuol tu Ma io ripensa a una gara Che aveva un amante a mira sul bus E una ventia soffritta vicina al mare Con una stellina E ora non vedo più Mi ne va Grazie 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 a tutti